A margine della visita alla giornata inaugurale della 54esima edizione del Vinitali, il segretario della Lega commenta il ritorno in campo del leader di Forza Italia definendolo un uomo generoso e un politico lungimirante. Un amico, un grande italiano, un uomo generoso e un politico lungimirante. A parlare è Matteo Salvini e il soggetto del suo elogio è Silvio Berlusconi. Ci sentiamo quasi tutti i giorni e concordiamo sostanzialmente su tutto, ha detto il segretario della Lega che commentando il ritorno in campo del leader di Forza Italia aggiunge, Forza Italia è e sarà un perno del centrodestra. Berlusconi ha inventato il centrodestra, quindi non ci saranno tentennamenti. A margine della visita alla giornata inaugurale della 54esima edizione del Vinitali, Salvini ha parlato anche di giustizia e fisco. Stiamo aiutando il ministro Cartabia a fare il meglio per sradicare le correnti, togliere la politica, i partiti e le lottizzazioni dai tribunali, ha sottolineato il leader leghista. Spero che tutti in Parlamento abbiano la stessa volontà, il 12 giugno c'è un appuntamento importantissimo con il referendum. Lì saranno tutti gli italiani a poter cambiare. E ancora, noi lavoriamo per aiutare gli italiani, proteggere le famiglie e le imprese. Siamo in questo governo per tagliare le tasse, per rinnovare lo sconto benzina per la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Se in qualche passaggio della legge fiscale si ipotizza un aumento delle tasse sulla casa, sui bot, sui risparmi o sugli affitti, ha concluso bisogna risolvere questi problemi perché dopo due anni di covid e una guerra in corso aumentare le tasse non sarebbe immaginabile.